Andiamo a piantare gli alberi sulla duna? La duna stalla? La duna stalla, sì. Stiamo facendo la festa dell'albero e quindi stiamo mettendo alberi molto importanti e molto belli in una zona che era invece terreno privato edificabile. Abbiamo cominciato a piantare 28 anni fa, eravamo pochissime persone con pochissimi soldi, però adesso abbiamo più disponibilità finanziaria perché i cittadini ci sostengono fortemente dandoci il 5 per mille. Qui si piantano alberi in un parco romano ma iniziative come queste sono diffuse in tutta Italia dove comuni e aree naturali protette hanno avviato progetti per piantare nuovi alberi e coinvolgere i cittadini nella gestione delle piave. Gli alberi sono fondamentali per combattere l'inquinamento e il riscaldamento globale, come sappiamo sia per la cosa che impariamo fin dall'elementare, cioè che producono ossigeno e assorbono anidride carbonica all'interno delle città poi costituiscono dei polmoni verdi che abbassano anche la temperatura della città stessa. La giornata è stata istituita dal Ministero dell'Ambiente nel 2013 con lo scopo preciso di ridurre l'inquinamento e valorizzare gli alberi e quest'anno all'evento si affianca il progetto europeo Life Terra che ha l'ambizioso obiettivo di piantare 500 milioni di alberi in tutta Europa entro il 2025.